Siamo al penultimo giorno di Vinitaly, nel nostro incontro con le aziende e con i territori. Oggi siamo con Ettore Nicoletto che è amministratore delegato e presidente di Angelini Wise Estate. Angelini è un grande gruppo industriale che non fa solo vino, perché la scelta di provare questa esperienza e qual è l'obiettivo di questo percorso? La famiglia Angelini ha investito nel vino ancora nel 1994, prima contenimenti Angelini, poi dopo l'acquisizione di Bertani, questa icona della Valpolicella classica si è ridenominata Bertani Domese e oggi nel 2021, anzi oramai nel 2022, la famiglia Angelini rinnova il suo impegno e la sua voglia di investire nel mondo del vino, ridenominando il gruppo come Angelini Wines in the States, appunto ad affermare questo impegno, questa volontà di sviluppare il business del vino attraverso sia il portfolio esistente ma anche attraverso acquisizioni in altri territori. Oggi noi siamo presenti nella Valpolicella classica e nella Valpantena con il marchio storico Bertani, ma siamo anche presenti in Toscana con tre aziende, una nel Chianti Classico, San Leonino, una nel Nove di Montepulciano tenuta a Tre Rose e una nel Brunello di Montalcino che è Val di Suga. Per finire, Marche con il marchio iconico storico Fazzi Battaglia e poi nella parte nord-orientale della penisola con Cantina Puglietti nell'Isonzo Friulano. Credo che sia una scelta non solo di rinominare il brand, ma anche una scelta di nuove prospettive, nuove interventi. Qual è la linea che in qualche modo lega questa cosa qua, sostenibilità biologico? In questo momento noi stiamo guardando sia l'espansione dell'assortimento, quindi andare a coprire aree dove non siamo presenti, regioni, denominazioni, tipologie di vino e anche a sviluppare la parte che noi definiamo Wine Experience, quindi lo sviluppo delle attività all'interno delle nostre proprietà per far conoscere a tutti gli stakeholders, dai consumatori wine lovers, agli operatori e anche alla stampa, dove nascono i vini e come si trasmette la nostra filosofia enologica, viticola ed enologica nel vino, che è un aspetto importantissimo per noi, soprattutto sul piano comunicazionale. Quindi trasferire la comunicazione proprio nelle zone dove nascono i vini. Quindi vuol dire cantine aperte, vuol dire enoturismo e in qualche modo legare sempre di più il gruppo al territorio e quindi è così la... È così, è esattamente così, grazie. Io credo che l'enoturismo e l'accoglienza in cantina siano una leva potentissima per sviluppare la conoscenza del vino, del made in Italy, dei territori, dei paesaggi e credo che tutte le realtà vitivinicole italiane debbano potenziarsi, debbano equipaggiarsi per sviluppare la capacità di accogliere, di intrattenere, far conoscere i propri vini e legare questa esperienza a tutto il territorio. Lei ha parlato di acquisizioni, possiamo sapere su cosa puntate e in quali territori, quindi quando avverranno queste... Allora, sul fronte delle acquisizioni siamo operativi già da un paio d'anni, stiamo cercando l'uscita della carta favorevole, sicuramente ci sono delle occasioni di consumo che noi non presidiamo ancora oggi, soprattutto lato sparkling, quindi vini spumanti, sia metodo classico che metodo Charmant e poi abbiamo un portfoglio molto robusto nell'area vini rossi, vogliamo sviluppare meglio la componente vini bianchi, cerchiamo dei brand, cerchiamo complementarietà, quindi di coprire regioni, distretti e tipologie che oggi non sono nel nostro portfoglio e di avere anche dei marchi che hanno una professione internazionale. Questo è un po' l'identikit del marchio, territorio e azienda che andiamo cercando e che sicuramente inseriremo nel nostro assortimento di gruppo. Entro l'anno ci sarà qualcosa... Spero vivamente di riuscire a comunicare l'ingresso di un nuovo brand o di una nuova azienda entro il primo semestre, se saremo fortunati, altrimenti sicuramente entro l'anno. Grazie. 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 Grazie.